ma perché la città che sta giocando? ma come si fa giocando? ostia! che è quello? che è quello? ostia! però la metodola eh! però che coglia? che caragno passa qui? vai caggo in viola! però che caragno sta passando? che? ostia! stiamo la oncia! caggo in viola eh! vai la macchina! vai la macchina! la macchina non fa invenenamenti diritto per il maschio! la macchina non fa invenenamenti diritto per il maschio! la macchina non fa invenenamenti diritto per il maschio! ma che caragno passa qui? non lo sai, io mi lo dico, dici un pochino che c'è! che c***o? oppa, oppa!